La vita umana, la persona, non sono più sentite come valore primario da rispettare e tutelare. C'è un'indole del rifiuto che ci accomuna, che induce a non guardare il prossimo come ad un fratello da accogliere. Si tratta di una mentalità che genera quella cultura dello scarto, che non risparmia niente e nessuno. Dio non conosce la nostra attuale cultura dello scarto. In Dio non c'entra questo. Dio non scarta nessuna persona. Dio non c'entra questo. Dio non c'entra questo. Dio non c'entra questo.